Moro 10 classe 2003 Sbaglia anche il secondo però c'è il rimbalzo offensivo Beccagutti sotto Cancelli contro Chebe Cerca lo scarico Allora prova a giocarsi l'uno contro uno Arriva un'altra stoppata da parte di Omar Chebe Che le due secondi, un secondo deve forzare Prova ad andare fino in fondo Arriva un'altra stoppata da parte di Omar Chebe Che sta difendendo benissimo Ripeto sul miglior giocatore della Mamma mia che stoppata di Omar Chebe Sono qui, Beccagutti spaventato da Chebe Si va sotto, Chebe contro Cancelli Buona difesa delle classe 2000 Che lo stoppa di Roma